uè non fare il pesce lesso da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi un sacco di novità per quello che riguarda il futuro di fortnite ovviamente sulla bocca di tutti la tanto attesa patch 11.30 devo dire ragazzi che sono più di 20 giorni che epic games non rilascia una patch corposa e per corposa intendo modifiche alla mappa inserimento di nuove skin nuove armi non c'è assolutamente nulla l'ultima è stata la 11.20 di due settimane fa 350 mega niente di eccezionale speriamo e tutti si aspettano che questa pace prima del nuovo anno porti una bella ventata di novità e soprattutto dei cambiamenti che ci aspettiamo nella mappa nel video di oggi ragazzi oltre a delle informazioni che voglio comunque darvi sulla pace parleremo anche del winter royal ovviamente il la tre giorni dove ci sarà un monte premi altissimo che potrà essere affrontata da tutti senza aver bisogno di particolari requisiti per accedervi vi darò delle informazioni e vi dirò anche l'arrivo di una coppia che potrebbe mettere davvero in grande difficoltà i pro player europei e per quanto riguarda ovviamente il pc per chiudere per chiudere una bella sbadilata di leaks per tenervi sempre aggiornati anche sul dietro le quinte di fortnite primo però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno passano a farmi compagnia in live su twitch dalle 8 alle 18 grazie mille ragazzi per il vostro sostegno e grazie anche a tutti quelli che utilizzano il mio codice creator xyuderone mi raccomando ragazzi non dimenticatevi di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle notifiche dei miei video prima la domandina ma la devo fare ragazzi lo faccio sempre anche se sono due tre giorni che non mi portavo alle news perché ho provato a fare altre cose la domandina ci sta assolutamente domandina molto molto personale ma te che voto daresti a questa season è oramai sono già due mesi ragazzi che ci stiamo giocando abbiamo visto anche se non eccessivamente dei cambiamenti siamo arrivati per esempio adesso alla terza fase di rapide rischiose sappiamo che sta per arrivare il nuovo a cappa c'è stata anche tutta la mappa cosa dareste come voto a questa season da 1 a 10 ovviamente io gli darei un 7 e mezzo ragazzi bellissima la nuova mappa un po meno bello il discorso degli aggiornamenti ma comunque non è fortnite che è un pochettino così sono i giocatori che sono diventati un pochettino molto tossici come ci piace dire a noi però rimane sempre un grande grandissimo gioco ditemi qual è il voto che dareste voi qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito subito a vedere il primo argomento di oggi i game awards praticamente che cosa sono i game awards o awards chiamateli come vi pare sono la stessa cosa degli oscar solo però rapportati al mondo dei videogames ed è proprio oggi questa sera alle ore se non ricordo male alle otto e mezza dell'eastern time che dovrebbe essere le nove e mezza di sera per noi che ci sarà la cerimonia di premiazione dei game awards tra l'altro fortnite è stata nominata è stato nominato in tre categorie categoria numero uno il supporto alla community categoria numero due miglior evento e sport e parliamo ovviamente della world cup categoria numero tre miglior videogioco nell'ambito e sport per farvi capire in poche parole nell'ultima categoria ci sono anche dota 2 league of legend counter strike ora adesso non ricordo con precisione anche l'ultimo e overwatch parliamo ovviamente di nomi abbastanza se non fondamentali per quanto riguarda il panorama videoludico attuale tra l'altro c'è da dire una cosa vi ricordate che un paio di mesi fa avevo detto che era già stata nominata ai game awards per maggior supporto alla community questo mi fa pensare che l'inserimento dell'arena in duo di pochi giorni fa potrebbe essere una mossa da parte di epic games per agevolarsi la vittoria insomma ha ascoltato la community che per un sacco di mesi gli ha chiesto questa benedetta arena in duo direi che comunque la mossa è stata sicuramente azzeccata è divertente ci piace a tutti e quindi non perdetevi in streaming questa sera dalle nove e mezza sicuramente li troveremo senz'altro e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi ragazzi il natale ma noi del natale ci interessa la patch 11.30 ragazzi la stiamo aspettando come già vi anticipavo qualche minuto fa non ci abbiamo neanche un'informazione ufficiale attualmente sono le 23 30 del giorno 11 dicembre e in game non è presente nessun pop up informativo devo però dirvi che l'ultima volta che abbiamo scaricato la patch 11.20 il pop up era arrivato nel corso della notte quindi speriamo magari che in queste ore o forse con il cambio shop potrebbe arrivare qualche informazione che ci dia un barlume di speranza su quella che dovrebbe essere la mega patch dell'ultima grande patch di quest'anno perché poi epigames e lo staffa in vacanza arriviamo dopo l'epifania e da lì andiamo verso la chiusura della prima season perché a febbraio il 6 febbraio inizia la stagione numero due abbiamo comunque delle informazioni abbastanza interessanti su questa patch alcune delle cose che verranno fissate alcuni alberi e alcune parti di metallo sparse per la mappa non danno il materiale corretto quindi sappiamo che sarà sistemato abbiamo un problema con l'outfit della bandoliera dove i capelli non vengono mostrati correttamente ma c'è un bug grafico problemi anche per quanto riguarda la skin magma quella la copertura delle armi che non ha la corretta animazione nel bazooka e nelle pistole e poi c'è un problema con la sfida per alcuni eliminazioni senza mirare gli avversari ad alcuni non è stata attribuita questa già la sapevo come cosa e verrà sicuramente fissata ovviamente nella patch 11.30 ci si aspetta magari anche qualcosa di grosso e ci sono da parte della community soprattutto su reddit e nei vari forum delle ipotesi che vengono avanzate come ad esempio non è che stanno smantellando rapide rischiose e dopo l'evento di star wars che vi ricordo è sabato 13 14 12 sabato 14 alle ore 20 se non sbaglio finito l'evento mettono il bloc 2020 tutti stanno aspettando ragazzi che vengano di nuovo messe le location personalizzate insomma il quartiere in poche parole che non è presente ahimè adesso nella mappa alcuni però fanno anche delle altre ipotesi molto interessanti che potrebbero essere anche dove siamo arrivati ci siamo persi oltre al blocco 2.0 non mi ricordo gli altri quali cavolo siano perché alcuni dicevano la winter royal ed effettivamente l'hanno messa quindi ragazzi speriamo davvero di vedere qualcosa di interessante ma prima di salutarvi ragazzi e di chiudere il video due secondi spesi sulla winter royal vi ricordo che sarà nella tre giorni dal 20 al 22 dicembre con un monte premi incredibile di 15 milioni di dollari ovviamente suddiviso per tanti vincitori e qua vediamo proprio la lista se arriviamo tra i primi mille si portano via 400 dollari il primo si gioca in coppia lo sapete benissimo il primo vince invece 9 mila dollari sono davvero tantissimi e una delle coppie che tutti si aspettano e diano la conferma ufficiale è proprio quella tra mongrel e benji fish va che belli paciocconi che sono qua insomma ragazzi tante cose stanno per accadere ancora un po di pazienza e speriamo ovviamente che la pace arrivi presto io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi ai canali noi siamo in live su twitch ciao mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi ai canali noi siamo in live su